Capacità di camminare per lunghe distanze e capacità di arampicarsi sugli alberi. C'è in sé caratteristiche moderne vicine a noi, all'Homo sapiens, quindi a delle gambe lunghe, a un fisico che gli permette di camminare abbastanza cevolmente, però associato a queste caratteristiche troviamo caratteristiche nella mano e nel piede e anche nella pelvi che sono indicative di capacità di arampicarsi sugli alberi. Ed è la prima volta in paleoantropologia che troviamo nella stessa specie unite insieme queste due caratteristiche.